Salute a tutti, bentornati a Covid-19, domande e risposte, guardiamole subito le domande, i quesiti che gireremo ai nostri ospiti di oggi. Ce li fa vedere la regia in questo cartello, innanzitutto la bellissima notizia, vediamo quanto però è insomma solida del calo delle infezioni nelle persone vaccinate, i primi sono stati gli operatori sanitari e poi ci chiederemo quanto la variante inglese che si sta rapidamente diffondendo anche nel nostro paese contaggerà di più, soprattutto se avrà un impatto sulle vaccinazioni. Ancora le reinfezioni dopo che una persona si è vaccinata, capiremo bene di che cosa si tratta e l'acquisto, fai da te delle dosi anche di vaccino che qualche regione vorrebbe fare e faremo il punto sull'RT, quindi la diffusione della pandemia nel nostro paese, il piano vaccinale, l'indagine dell'OMS sulla nascita del virus. Iniziamo subito con questa bella notizia che deriva dal report della fondazione Gimbe, benvenuto a Nino Cartabellotta che è il presidente di Gimbe. Allora, che cosa avete scoperto per quel che riguarda i primi vaccinati tra i sanitari? Ma guardi Gerardo, si tratta di un'analisi preliminare come quelle condotte in Israele su altre fasce di popolazione, noi sostanzialmente abbiamo verificato qual è l'andamento dei nuovi casi nella popolazione generale nelle ultime tre settimane e in queste ultime tre settimane questo numero di fatto si mantiene sostanzialmente stabile. Se noi invece andiamo a guardare, partendo da quelle che sono le segnalazioni giornaliere dell'Istituto Superiore di Sanità degli operatori sanitari contagiati, nello stesso periodo, quindi nelle ultime tre settimane, il numero di casi sono passati da 4.382 a 1.570, di fatto una riduzione di circa 64%. E' ovvio che questo è un dato preliminare che presuppone in qualche maniera che le modalità di testing a cui sono sottoposti gli operatori sanitari sono le stesse, ma visto che, chiamiamolo il gruppo di controllo della popolazione generale, in queste tre settimane ha avuto dei casi sostanzialmente simili, l'unico elemento introdotto in maniera importante negli operatori sanitari è circa un milione e mezzo, un milione e novecentomila dossi di vaccino. E' chiaro che noi non possiamo fare delle sperimentazioni particolarmente dettagliate e particolarmente raffinate dal punto di vista metodologico nel mondo reale, ci si deve accontentare un po' di guardare cosa succede nei sottogruppi di popolazione. Ripetisco, si tratta di risultati preliminari ma assolutamente incoraggianti. Che poi, Presidente Cartabellotta, questi risultati sarebbero perfettamente in linea anche con quello che sta accadendo in Israele, dove si sono avviati molto prima di noi con le vaccini, e stanno procedendo con una certa celerità anche perché hanno avuto moltissime dosi a disposizione da parte della Pfizer, hanno fatto un accordo, loro forniscono all'azienda i risultati della sperimentazione a livello statistico naturalmente, che serve all'azienda per capire quale sia l'efficacia del suo vaccino, in cambio più dosi. Anche lì in Israele ci diceva sabato scorso il capo delle vaccinazioni del Maccabi, che è una delle più grandi casse mutue di quel paese che sta procedendo alle immunizzazioni, c'è insomma un crollo delle infezioni nella fascia fra i 60 anni in su, che è quella che per prima loro hanno vaccinato. Cartabellotta, lei pensa che questo effetto Israele lo avremo anche qui in Italia man mano che vaccineremo gli anziani? Ma guardi, io mi auspico di sì perché inevitabilmente la fascia che ha più rischio di sviluppare la Covid dovrebbe essere quella che più si beneficia ovviamente della vaccinazione. Purtroppo al momento noi non abbiamo dati in grado di poter effettuare questo tipo di valutazione. Ecco, la nostra analisi preliminare sugli operatori sanitari è rafforzata anche dal fatto che questo effetto noi lo abbiamo visto praticamente a partire dalla settimana del 13-19 gennaio. Ecco, teniamo conto che l'inizio della somministrazione della seconda dose è cominciata dal 17 gennaio. Noi sappiamo che una dose di vaccino Pfizer, che è quello che è stato prevalentemente, nel mondo reale sarebbero coerenti con queste osservazioni preliminari che abbiamo riportato di cui ovviamente sotto l'effetto sembra veramente molto netto per essere un caso. Anche perché diciamo che credo sia importante, perché proprio ieri abbiamo sentito, ne hanno parlato i mezzi di informazione, che in Umbria 98 persone che si erano vaccinate si sono poi infettate, quindi dopo la vaccinazione hanno pagato il prezzo più alto, perché sono quelli che sono finiti in rianimazione più di altri, purtroppo sono morti in grande quantità, abbiamo raggiunto e superato le 93 mila vittime nel nostro paese. E vedete, insomma, non è che ci siamo appena avviati, perché riguarda gli over-ottantenni, vedete la proporzione rispetto agli altri... Nino Cartabellotta del nostro paese, dove è il paese, in testa gli operatori sociosanitari, come avete visto, abbiamo qualche problema col cartello, ma non è... insomma, andiamo avanti... Ma guardi Gerardo, il problema reale è che noi siamo stati bravi in questa prima fase, perché al di là poi delle polemiche che possono... 12% della provincia di Bolzano, quindi diciamo una percentuale più che doppia. Il problema reale, anche rispetto ai dati che ha fatto vedere lei, riguarda, diciamo un po' complessivamente, qual è il grado complessivo di protezione della popolazione e soprattutto degli ultra-ottantenni, perché uno degli obiettivi che ha dato la Commissione europea agli Stati membri è quello di riuscire a vaccinare entro il 31 marzo l'80% delle persone che hanno più di 80 anni. Noi a martedì scorso, il nostro ultimo report, abbiamo constatato che solo il 3,6% degli ultra-ottantenni ha fatto una sola dose e poco meno di 100.000 persone sono state praticamente vaccinate con il ciclo completo, che corrisponde al 2,2%. Se noi non abbiamo le dosi e non acceleriamo, di conseguenza poi una volta avuta la vaccinazione degli ultra-ottantenni, la protezione nei confronti delle persone più fragili ovviamente si sposta in avanti rispetto a quello che un po' sono gli obiettivi complessivi della campagna vaccinale. Noi dovremo vaccinare circa 2.400.000 persone a ultra-ottantenni e come dicevo, ne abbiamo completata la vaccinazione solo in poco più del 2%. Allora, nel cartello B leggiamo lo stato dell'arte della pandemia nel nostro Paese e vedete, l'RT si è un po' alzato rispetto alla scorsa settimana, siamo adesso allo 0,95. L'incidenza resta stabile, comunque altissima, 133 casi ogni 100.000 abitanti, ricordiamo che sono 50 casi massimo per poter tracciare chi si infetta, quindi comunque 133 vuol dire epidemia che non viene monitorata come si dovrebbe. Dieci regioni sono a rischio moderato, cinque regioni superano la soglia dei ricoveri, il 30% in rianimazione, il 40% in medicina generale. Alcune zone sono entrate in russo, in Umbria, provincia di Bolzano che sta facendo lockdown, Pescara, Chieti, Narancione, Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento e viene prorogato fino al 25 di febbraio, come leggete, lo stop agli spostamenti tra le regioni. Cartabellotta, ancora a lei voglio chiedere, il sistema dei colori, delle zone, queste restrizioni stanno funzionando? O come dire, è una stabilizzazione che però sicuramente non va avanti, è un fatto molto positivo, ma intanto non torna neppure indietro e quindi ci lascia in un limbo anche economico oltre che sanitario? Guardi Gerardo, noi in questo momento ci troviamo in una fase di apparente calma piatta perché come dicevo poco fa il numero di nuovi casi settimanali sul dato nazionale si mantiene stabile, però se noi andiamo poi a spacchettare il dato a livello delle singole regioni vediamo che ci sono 10 regioni nelle quali c'è un'inversione di tendenza intesa come incremento percentuale dei casi rispetto alla settimana precedente e anche come aumento di casi attualmente positivi per 100.000 abitanti. Se poi entriamo ancora a livello delle singole province, noi martedì abbiamo, nell'analisi di martedì pubblicata giovedì, abbiamo rilevato che ci sono 17 province che hanno un incremento percentuale dei casi oltre il 5% e alcune oltre il 10%. Questo che cosa significa? Che noi in questa fase della stabilizzazione della curva nazionale in apparenza poi abbiamo tutta una serie di situazioni dove il contagio sta risalendo e se non le identifichiamo precocemente e istituiamo precocemente delle zone rosse e questo soprattutto perché ci sono le varianti di cui noi non conosciamo esattamente qual è la reale entità della circolazione, noi ovviamente rischiamo una nuova diffusione del contagio. Mi permette anche di aggiungere un dato importante per chi ci ascolta. Sulla curva nazionale questi incrementi si vedono ancora poco perché riguardano regioni prevalentemente piccole, ma credo che il laboratorio umbrio dell'Umbria sia una di quelle situazioni che ci fa capire che nel momento in cui i contagi aumentano così velocemente poi si riempiono nuovamente gli ospedali. Quindi monitoraggio stretto, identificazione anche a livello provinciale o comunale e istituzioni di micro lockdown che ovviamente impediscono il diffondersi della circolazione del virus. Professor Lopalco, la sua regione torna in giallo perché sono stati ridefiniti alcuni parametri e quindi ritorna con le restrizioni minime. Lei è sempre stato un teorico del situazionismo, chiamiamolo così, per quel che riguarda la gestione.